Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi una nuova propria unità immobiliare, ci troviamo allo sedericchio di questa ombra, in questa palazzina costruita nel 99, con più di due di ottima qualità. Da questo lato abbiamo l'ascensore, il mio appartamento è stato appena messo in unità, è il primo piano, e ora vi facciamo vedere. Palazzina gravitata, in questo modo più ampio, e vuol dire anche che abbiamo tenuto. Zona motocerviva, la più principale servizio, entriamo nell'appartamento, è un mini appartamento di 40 metri, unico vano, da questo lato troviamo il bagno, con la doccia dietro la porta, c'è l'attacco per la lavatrice. Ovviamente era stato sostituito qualche anno fa, è completato a piedi arredo, poi troviamo l'angolo cottura. Portone in blindato, video fitofono, finestre come il taramacostico, il legno. A questo lato usciamo nel terrazzo coperto di 8 metri quadrati, che si può sfruttare anche l'inverno. Da questo lato abbiamo la messa sul verde, siamo esposti al resto, quindi prendiamo il sole la mattina. Qua abbiamo la lavatrice e la caldaia, riscaldamento autonomo, le spese condominiali sono 20 euro al mese. È un appartamento adatto sia al tuo investimento, per avere un'ottima rendita della locazione, oppure per abitare magari un periodo transitorio della vita. La richiesta è 49.000 euro, compreso un fondo di 4 metri quadrati. Se siete interessati potete contattarmi. Ciao a tutti!